Buongiorno a tutti quanti, siamo alla seconda parte del mostaggio, avevamo iniziato due settimane fa, ricordate che cosa avevamo parlato due settimane fa? Avevamo parlato di luce, due settimane fa avevamo detto che tutto quanto era bruciato con la luce, tutto quanto era proseguito con la luce con la ricorda di Gesù, quella luce era divenuta parte di noi come credenti, ma avevamo anche detto che era il compito di noi come credenti di rimanere connessi, di essere efficienti per poter rimanere connessi, viventi per dire. Vi ricordate che avevo fatto l'esempio di cui il mio cliente al negozio aveva portato i fanalini di plastica e i miei miei hanno chiesti e quando gli avevo chiesto se voleva anche le lampadine lui mi aveva detto sono inutili perché tanto servono solo di bellezza e poi non servono di carabinieri. Per cui non erano connessi, non c'era elettricità, non c'era una lampadina all'interno, servivano soltanto per fare per la signora. E avevamo visto assieme quello che aveva detto invece Gesù in Matteo che era questo qua. Matteo aveva detto chiaramente, in Matteo Gesù aveva detto chiaramente che noi siamo la luce del mondo, lo leggiamo assieme, voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non vuole venire nascosta, né si accende la luce per nasconderla sotto un vaso, ma per dare luce a tutti quelli che sono in casa. Allo stesso modo lasciate che la nostra luce esplendata a tutti, affinché vedano gli uomini e gli uomini e gli uomini apparevano anche i miei uomini. Come vi ho detto di questo brano mi colpiscono più le cose che Gesù non dice di quelle che dice, abbiamo visto anche questa volta. Le cose che non dice il versetto sono che io non ho la luce, ma io sono. Io personalmente ho il sono la luce dell'uomo. Infatti il versetto dice voi siete, voi siete la luce. L'altra cosa è che Gesù dice che io non posso rimanere nascosto, non posso rimanere nascosto, ma devo farmi conoscere da tutti, devo farmi vedere da tutti. Il versetto dice una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, né si accende la lampada per nascondere sotto un vaso, ma per dare luce a tutti quelli che sono in casa. E la terza cosa che non dice il versetto è che non ricevo gloria della mia luce, ma Dio l'hai fatto. Tutto quello che è, facciamo la nostra testimonianza, il nostro essere luce, lo riceve il Dio. Infatti Gesù dice, affinché vedano le vostre buone cose del Signore al Padre che è il vostro che dice. Quindi l'effetto di tutto questo è che le persone daranno l'odio non a lui, ma a Dio. Allora, come faccio a controllare che i miei nostri amici sono in questo punto la sede e che davvero ci sia nel porta rampa della riuscita di Gesù. Ci sono quattro abitudini che possiamo sviluppare, anzi che dobbiamo sviluppare, se possiamo continuare a dare la luce del mondo. E adesso riesce ad illuminare non soltanto per noi stessi ma per illuminare i piedi. La prima, in queste quattro è questa. Devo passare per una devo passare ora il mondo ci ha provveduto degli strumenti meravigliosi che sono in possesso di tutti quanti io qua davanti ho uno smartphone sto predicando con un timer là dietro c'è un computer per cui viene trasmesso le slide e qua c'è una televisione sono dei mezzi stupendi tv, pc, tablet, smartphone riempiono ogni giorno le nostre quanto lo riempiono? ho fatto alcune ricette che questo è quello che è il risultato questa non è la significa italiana si calcola in media o in italiano allora 5 ore al giorno davanti ho uno di essi ripartiti così 89 minuti passati a mandare la testa 85 minuti davanti al computer 85 minuti davanti al computer 109 minuti davanti allo smartphone e appena 34 minuti davanti al computer è un totale di 317 minuti sono 5 minuti questa è la media italiana di quanto passiamo con gli elettronici alcuni hanno definito le armi sapete che ci sono le armi di distruzione di massa no? le armi di distruzione di massa sono quelle le bomba atomica che distrugge tutto quanto molti hanno detto che l'elettronica è un'arma di distrazione di massa non distruzione ma distrazione il mondo fa del tutto per distrarci il mondo fa del tutto per portarci lontano dalle cose che sono realmente importanti intendete le cose che ho addestritto non sono di per sé cattive computer, smartphone, tablet televisione di per sé sono delle cose cattive anzi ci hanno facilitato ci hanno avvicinato hanno avvicinato gli spazi ma quando diventano eccessive diventano ossessive c'è gli psichiarmi hanno introdotto una nuova una nuova sindrome lontanica sapete si chiama nomofobia la nomofobia è la sindrome interrore di rimanere senza connessione chi non è? non c'è capo non c'è capo quindi non c'è capo non preme non preme non c'è capo dove è? in nomofobia ci sono persone che rimangono traumatizzate dal fatto che non sono più connessi tutto questo ci porta lontano dalla vera connessione la vera è l'unica connessione che noi noi credenze dovremmo avere l'unica che conta davvero questa salmo 145 18 dice così il signore è vicino a tutti quelli che non hanno ecco la connessione che dobbiamo cercare ecco il campo che dobbiamo il versetto dice una cosa molto importante una cosa importantissima Dio è disponibile alla connessione in ogni momento ma sono io che devo rivolgere gli stessi come su io sono quello che deliberatamente deve accendere lo smartphone della mia asma per promettere il signore il signore è vicino a tutti quelli che lo invoca per cui io devo invocare il signore per ottenere la connessione perché è importante passare il tempo continuo nell'ottica di essere luce del mondo perché il problema qui c'è un brano di Esodo Esodo 3429 è un momento importante per il popolo di Dio perché Mosè è andato sul Monte Sinei per ricevere le tavole della legge e il cilissimo mandamento e questo è quello che succede quando scende dal Monte Sinei dice così esco a 3.429 poi Mosè scese dal Monte Sinei e gli aveva in mano le due tavole che era testimonianza quando scese dal Monte Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre gli parlava con il signore addirittura nei versi successivi si dice che Mosè doveva mettere una fascia una pezza un tessuto davanti alla propria faccia perché la visione del suo viso così raggiante disturbava la visione delle altre persone era raggiante illuminata la luce il viso di Mosè risplendeva perché per dire è stato continuo la luce di Dio è contagiosa è contagiosa si attacca a me passare tempo con Dio non solo mi dà forza non solo mi conforta ma fa sì che una parte della luce di Dio rimanga dentro di me certo non rimane tutta ma una buona parte rimanga dentro di me Giovanni affermava nel primo capitolo del suo Vangelo Giovanni Dio Dio è luce Dio è luce e lui non ci sono venga più tempo passo con lui più accumula la sua luce più accumula la sua potenza di emanare e gli altri vedranno così come la vediamo Mosè doveva girare coperto invece Gesù dice che noi dobbiamo essere messi in luce scoperte luminosi allora come passo tempo come posso in una parte esattamente come passi tempo con qualsiasi altra persona a cui puoi bene allora che cosa fai pensa al tuo migliore amico o al tuo signore amico cosa fai quando passi tempo con qualsiasi di spazio normalmente parli normalmente parli ma non parli soltanto lo ascolti perché altrimenti sarei come un monologo e saresti un amico molto curioso qualche volta parli qualche volta ascolti ma ci sono altre volte in cui tu il tuo amico la tua amica sta semplicemente in silenzio perché le parole non servono perché serve qualche cosa di più per arrivare al cuore magari un abbraccio magari uno spazio e trastico ecco con Dio devi fare le stesse cose con Dio devi fare le stesse cose che fai con il tuo migliore amico o la tua mia amica e impararmi e questo lo fai quando prego in preghiera stai parlando con Dio lo devi ascoltare e questo lo fai quando leggi la Bibbia quando leggi la sua parola ma stai anche in silenzio stai anche in silenzio in una serie precedente durante l'anno abbiamo parlato non so se vi ricordate di disciplina spirituale e una disciplina spirituale è quella del silenzio di stare in silenzio dall'anno al Signore perché perché tu dalle possibilità quando stai in silenzio dal Signore di parlare direttamente al tuo cuore quando leggi la Bibbia lui sta parlando della tua intelligenza quando sta in silenzio l'altro Signore lui sta parlando direttamente al tuo cuore quando il tuo spirito sai ormai è tanto tempo che io lo faccio non mi ricordo più nemmeno quando ho cominciato ma la parte iniziale della mia momento del mio riflessione mattutina è quello di stare in silenzio la prima cosa che faccio prendo mi sento seduto e dico ok Signore io sono disponibile alla tua versione ok pazzo cosa vuoi l'abbiamo anche cantato dimmi che fare dimmi cosa vuoi che faccia la canzone che abbiamo detto e questa è la prima devo passare la seconda maniera per essere luce del mondo devo vegliare devo vegliare sulla mia devo vegliare qui c'è una parola un po' occulta un po' difficile un po' ricercata e non ho scelto a caso questa parola vegliare ma l'ho usato una parola ho usato specificatamente una parola che usa Paolo in Prima Corinthians 16-13 per gli amici di lingua inglese ho usato una versione la century version dove c'è proprio questa frase in un esempio in italiano invece suona così vegliare state fermi nella fece comportatevi virilmente fortificatevi Paolo usa questa parola vegliare che cosa significa vegliare allora ho fatto come sempre sapete che mi piace l'etimologia un po' di ricerche sui vocabolari treccani ho trovato questa definizione di vegliare mi spiace che non l'ho fatta in inglese però vegliare significa questo vegliare intratransiti voglio 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 stare sveglio soprattutto nelle ore in cui si dovrebbe dormire cioè nella notte o quando altri in sostanza Paolo sta dicendo una cosa signori tutti gli altri intorno a voi dormono voi che siete credenti invece dovete restare svegli quando invece volete andare per i sette sogni come esattamente come gli altri dovete stare speso mentre gli altri vengono con questa e con quella nuova religione dovete comportarvi da uomo che donne madure mentre tutti gli altri si comportano come bambini iniziati e dovete diventare ogni giorno un pochino più forti attraverso l'anunico ad essere credenti avete visto quanto è lunga la frase Paolo è divinamente ispirato e tutto quello che io ho detto lo sistematizza in quattro frasi e otto parole quattro frasi adesso voglio vediate state presi nella fede comportate medicamente forte eccezionale e per questo Paolo mi piace una capacità di sintesi che soltanto lo stesso può ora tendenzialmente io sarei tenuto tenderei a dire a Paolo e come si fa è complicata la cosa io non so da dove cominciare per fare quello che non mi dici se non che Paolo da bravo insegnante mi ha provveduto un elenco ben preciso di quello che lo troviamo in Filippese al capitolo 4 lo dovresti trovare nei vostri appunti dice inoltre fratelli soffronatevi sulle cose che sono buoneste sulle cose che sono nobili sulle cose che sono giuste pure sulle cose degne di essere amate e onorate se c'è qualcosa di virtuoso e lodevole pensate a quello ve lo ripeto inoltre fratelli soffronatevi sulle cose che sono oneste che sono nobili che sono giuste che sono pure che sono degne di essere amate e onorate se c'è qualcosa di virtuoso e lodevole pensate a quello sono otto cose che lui ci dice che è successo allora voi sapete che quando parte un aereo prima di partire un aereo si fa quello che si chiama la check in lista c'è un elenco di procedura che deve essere fatto e i pilot i steward che tutto l'equipaggio deve andare e dire si lo ha fatto 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 prima di decollare allora alla stessa maniera prima di decollare con i nostri pensieri prima di decollare con le nostre azioni dovremmo fare la stessa cosa uguale fare la check in list di queste otto cose dovremmo dire di queste cose questa cosa è onesta è nobile è giusta è pura è degna di amore è degna di onore è virtuosa è da rodare ora sapete i piloti quando fanno questa check in list portellone chiuso carrello funzionante pressurizzazione funzionante motore di sinistra funzionante motore di destra non funzionante va bene vogliamo lo stesso tanto ci abbiamo quella la check in list dice il meglio che ti conta deve essere complessa tutto quanto deve essere complessa alla stessa maniera quando noi agiamo come credenti la check in list di quello che noi di quella che ci da Paolo deve essere complessa non dovrebbe essere che per la maggior parte sì questa cosa è onesta però non è molto dura però la facciamo lo stesso questa cosa è degna di amore però non è particolarmente virtuosa questa cosa è giusta però non è molto da dare però la facciamo lo stesso Paolo dice che noi dobbiamo essere consapevoli per tutto quello che noi facciamo rientri in queste otto capisci è importante quello che penso è importante quello che penso perché quello che penso quello che penso condiziona quello che faccio e chiaramente se io penso una cosa sbagliata farò una cosa sbagliata è per questo che è importante lasciare sui propri pensieri la terza abitudine che devo coltivare per essere luce del mondo è questa devo fare come Gesù devo fare come Gesù tra portare la luce ed essere la luce del mondo c'è la questa differenza tra portare una candela e installare un impianto di illuminazione una candela che cos'è? è un campione un simbolo poca cosa un impianto di illuminazione è qualcosa di stabile che rimane noi siamo chiamati a portare un esempio di cosa non siamo chiamati a portare un esempio di cosa sennò di chi essere la luce ma siamo chiamati a portare un impianto di illuminazione di essere la luce Giovanni ha detto che la vera luce stava avanti nel capitolo di Gesù e che cos'è che ha fatto la vera luce? che cos'è che ha fatto Gesù? Gesù non ha soltanto parlato sì ha parlato molto ha parlato tantissimo ma soprattutto ha agito ha agito in amore ha agito ha fatto quello che lui parlava ora mi sono mostro una domanda ve la parlo aveva necessità Gesù di scendere per fare tutte le cose che ha fatto sulla sua vita di arena guarire gli ammalati confortare gli affitti sfamare gli affamati Gesù è Dio Gesù è Gesù sarebbe bastato uno schiocco di Nisa e anzi manco quello bastava che lui pensasse e zonchi tutto si sarebbe trasformato in quello che vengono eppure lui è sceso lui è sceso e l'ha fatto fisicamente perché ce lo spiega ce lo spiega Giovanni 13 il 17 infatti io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate di mamma io ho fatto io in verità in verità vi dico che il servo non è il maggiore del suo signore né il messaggero maggiore di colui che lo ha mandato se sapete queste cose siete beati se le fate tutto il discorso verte su quest'ultima frase tutto questo e in originale non c'è ma il traduttore italiano ha messo giustamente questa lunga per enfatizzare l'ultima parte perché ha detto siete beati se fate tutte queste cose beati sapete cosa significa felici siete felici virgola se le fate non se le pensate non se le dite virgola se le fate non basta passare per un po' di no non basta inviare sui nostri pazienti ma la cartina di pornasole del credente cartina di pornasole la cartina di pornasole del credente è fare come Gesù ha fatto è fare come Gesù ha fatto Gesù ma tu stai raccontando soltanto che Gesù è la via che è la luce invece lui vuole Gesù vuole che tu sia la luce questo è un passo importantissimo fare che ci porta a quarta che è questa devo dichiarare che sono Gesù devo dichiarare che sono Gesù ora quante persone fanno il bene nel mondo? quante organizzazioni fanno il bene nel mondo? ti viene in mente qualche nome di qualche organizzazione internazionale che fa il bene nel mondo non 16 16 ok bellissimo altri altri io penso medici senza frontiere medici senza frontiere vanno curano nei posti in battaglia stessa cosa fa i mercati me la dico su sul vento piantano degli ospedali in posti dove cercano le cose oppure ci sono anche Amnesty International che si occupa dei rifugiati e dei perseguitati politici stupendo meravigliosi operano bene fanno del bene ma lo fanno per un fine più alto la pace la carità eccetera lo fanno per un fine più alto ma non lo fanno per un fine supremo è più alto ma non è supremo quello che noi facciamo dobbiamo fare per un fine che non è più alto ma è per un fine supremo la salvezza la vita eterna il paradiso quello è dato soltanto ai figli di Dio e se noi portiamo la luce è per portare le persone da creature di Dio a figli di Dio ora vi faccio una domanda Dio è padre di tutti Dio è padre di tutti che le persone lo fanno sì no Dio non è padre di tutti Dio è tradore di tutti Dio è tradore di tutti ma Dio è padre soltanto di coloro che lo hanno accettato e Dio li ha fatti entrare a far parte della sua famiglia il fine di portare la luce è questo è per quello che è un fine supremo far diventare persone non soltanto consapevoli che Dio esiste ma portarli a far parte della famiglia e questo è il fine supremo di facciamo il salmo 60 dice così ma ora tu hai dato a quelli che sembrano una bandiera perché si si alzino il valore del grande ora cosa si fa con una bandiera una bandiera serve per essere come te lo senti i bombiali di calcio si sventola si sventola la bandiera è il simbolo del padre ci sono episodi di 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 cui le persone hanno salvato la bandiera in maniera più strana per esempio se voi andate in un museo penso che sia in Trentino c'è la bandiera degli alpini della che era un battaglione che fu mandato in Russia in pratica sono morti tutti i quali questa bandiera la vedete è stata ricostruita perché è stata uscita tutte quante piccole crescette che cosa era successo pur di non far conquistare la bandiera i soldati dell'armiglio l'avevano fatta a pezzi l'avevano tagliata e se l'erano fasciata intorno alle braccia perché sembrassero sembrassero bene così che la bandiera non potesse essere condensata poi quando sono ritornati in pochi che sono ritornati hanno riuscito la bandiera perché è importante la bandiera sta a significare io sono di questo battaglione io sono di questo esercito la bandiera di Cristo è uguale tu quando proclami che sei di Cristo stai dicendo io faccio queste cose perché sono di questo battaglione perché sono di questo esercito la bandiera viene difesa fino alla morte dai soldati e quando è persa la bandiera è persa la loro alla stessa maniera se noi non difendiamo fino allo stremo allo stremo allo stremo come oggi sono sono dislessico verbalmente fino allo stremo la battaglia per Cristo allora abbiamo il nostro nome ci sono persone che stanno morendo nel mondo in questo momento pur di non dire noi non sono altri cristiani ma sono di questa altra religione quelle sono persone che stanno difendendo la bandiera noi che cosa facciamo noi come ci comportiamo la nostra bandiera si chiama Cristo la nostra bandiera si chiama Cristo l'asta che sorregge la bandiera si chiama testimonianza noi dobbiamo testimoniare che si chiama Cristo mostrare mostrare gli altri che si hanno di Gesù e mostrare che lui esiste che è vivo e quello che l'ha fatto l'ha fatto per noi perché ciò che facciamo noi lui l'ha fatto prima di noi lui l'ha fatto come sempre perché noi potessimo fare facciamo attenzione a come lo facciamo facciamo attenzione a come lo facciamo ma soprattutto facciamo attenzione a far sapere perché e per chi lo facciamo questa è la cosa che non perché le persone valuteranno Cristo sulla base di quello che vedono noi facciamo lo ripeto perché le persone valuteranno Gesù da quello che vedono noi facciamo è importante noi siamo una vera luce la luce è entrata in noi e noi dobbiamo essere testimoni della luce e Cristo verrà testimoniato sulla base di quello che noi facciamo in conclusione il mio cliente aveva su tanti pali vi ricordate c'era su tanti pali senza collegamenti senza scigli senza lampada all'interno e dice più delle ponte funziona e non mi fa la contravenzione ma Gesù vuole che funzioni per da te Gesù vuole che funzioni per da te e Gesù vuole che funzioni sempre non una volta sì Gesù vuole che noi siamo luce del mondo quando? sempre anche quando dormiamo anche quando dormiamo noi siamo luce del mondo pensino pensatevi ho enfatizzato quello che faceva Paolo poco fa della sua meravigliosa mente e di come lo stude sanno di parlare ma pensino il grande Paolo l'enorme Paolo colui che aveva parlato direttamente con gli diceva queste cose prima cominci 9 da 25 al 27 9 da 25 al 27 Paolo diceva così e sapete bene che gli atleti si sottopongono a una rigida disciplina lo fanno soltanto per ottenere in prezzo in prezzo una corona che presto esisce noi invece lo facciamo per una corona che non abbassina mai perciò io corro dritto al traguardo mettendoci la cuca lotto come un pugile che vuol vincere e non dico coltanto mi sottopongo a dei sacrifici come un atleta e tengo il mio corpo a disciplina per paura di essere squalificato e di preso proprio io che ho ben cadavate Paolo era consapevole che per quanto mi avesse fatto per quanto lo avesse detto per quanto lo avesse insegnato non sarebbe valso nulla se lui non avesse testimoniato questo per non correre il rischio di essere squalificato che è ripreso da Gesù in fase di revisione devo controllare che i miei fanali non appaiono soltanto belli di fuori ma che siano connessi a Gesù e che facciano luce per gli altri nella notte è questo a cui ci sta chiedendo ci sta chiamando Cristo di essere un fatto nella notte per gli altri per qualche cosa non di più alla ma di superiore passando tempo a parlare a Dio previando sui miei pensieri sulle mie azioni facendo quello che Gesù ha fatto facendo quello che Gesù ha fatto non facendo non soltanto raccontando quel gesto ed è quello che funziona ed è questo che funziona non una sola volta ma sempre andiamoci a pregare grazie Signore Gesù di averci reso luce di averci reso testimoni e di averci chiamato a essere testimoni quella luce che intendo la voglio al giugno Signore io la voglio al giugno voglio rispondere voglio essere raggiante se tu che hai ascoltato se è stato colpito se è stata colpita da un po' al prossimo ma anche questa predicazione mi prego a pregare assieme a me in queste varie del cuore Sì Signore Gesù io voglio che l'altro senti dentro di me e voglio passare questa luce di me voglio essere radioso voglio che gli altri venivano davanti tanto che io sono tuo è per questo che io prometto di passare tempo con te di trascorrere tempo con te pregando ascoltando la tua parola riflettendo e rimanendo insieme è lo stesso modo che Signore io voglio vestire sui miei insieme su tutto quello che penso voglio che le otto cose che Paolo mi dice di fare prima di fare qualsiasi cosa a far parte del mio essere io voglio riflettere su quello che faccia perché tutto quello che faccio porti in grazia luce e testimonianza a te e Signore io non voglio tanto parlare di te Gesù ma voglio far quello che tu hai fatto voglio fare quello che tu hai fatto perché tu hai dato un esempio di quegli esempi io voglio seguire e infine voglio dichiarare a tutti quanti che non lo faccio soltanto per un bene superiore ma lo faccio per un bene supremo e quel bene supremo si rinforziamo Gesù voglio che tutti quanti ridano la mia bandiera dove c'è scritto io sono di Gesù tutte queste cose che ti prego tu o santo non mi sono Gesù chiedendo lo Spirito Santo su di me e dentro di me che mi aiuti ad essere costante in questi nuovi luoghi attenzionati grazie a tutti